con i c uo e ben aiuto a tutti voi nel mio canale sono sempre giappo gamer ben ritrovati qui su gran turismo sport allora recentemente da un po di tempo si è aggiornato come vedete è comparso qui ne campiamo principianti la coppa nissan gtr o nissan gtr cup formato da tre gare e visto e considerato che comunque l'hanno aggiunto ho pensato ben pensato di ovviamente portava sul canale allora tanto per completezza diciamo così allora abbiamo già detto che diviso questa coppa in tre gare la prima gara tokyo expressway della seconda sul blue monday e la squadra blu blu moon bay scusate e poi la terza nel nuovo circuito di tsukuba sempre giapponese allora iniziamo la prima gara ovviamente con la nissan skyline gtr eccola qua ma lo vediamo un po magari se riusciamo a migliorarla in qualche modo e via un po ovviamente campionato monomarca vediamo un po a pura gtr anismo del g7 2007 ammazza però è comunque campionato monomarca poi sono svariate skyline gt vabbè mamma mia sentite qua è il rombo di motore incredibile mamma mia che roba allora vediamo un po i posazioni auto vediamo un po se riusciamo a migliorarla ok ok fino a 5 anche qui miglioriamo migliorabile ok bene e iniziamo anche la gara mamma mia siamo nel circuito di tokyo eccolo qua siamo ultimi un po in posizione e due giri lontiamo sempre per la vittoria vediamo un po come va mamma mia è incredibile questo circuito di tokyo bene così prendi la scia a questo bene così no guardiamo la rotaglia che figata porca la miseria vai così a cannone passiamo l'internamento a questo così bene che siamo noni frena frena aio e poi pure non beccarla mannaggia vabbè frena ok dai ci sono mucchiate qua vai così ok vai ci sono tutte quante mucchiate qua bene così vai un po di drifting ok siamo sesti frena 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 mamma mia come battina come parte di culo questa nissan gt mamma mia che spettacolo questo tokyo expressway circuito cittadino giapponese quanto mi esalta frena frena vai così vai così ok orchè mi viene da sbatture lui dai superiamolo ok bene così dai siamo quinti al momento vedo il quarto vedo il terzo ok vai che sono andati lunghi vai che sono andati lunghi no ritorna questo no e dai vai vai che siamo terzi vai che siamo terzi vabbè siamo quarti vabbè comunque più o meno ci stiamo stiamo lì porca la miseria vai cercare di prendere la scia il più possibile è il primo settato porca la miseria eeeh che faccia faccia una sportellata qua che è eeeh fast e furious do kaspi che stiamo eeeh 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 porca la miseria la macchina è tutta spaccata ok adesso usiamo una parte un po' più tecnica ok miglior intertempo bene così siamo terzi dal primo non è distantissimo vai così dai che stiamo sul culo a questo ecco ecco là il primo da che siamo secondi ancora migliori intertempo bene così frena 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 eccolo là dai cercando di beccarlo il primo gli altri stanno dietro per il momento speriamo che vada lungo qua frena 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 ok non dico che l'abbiamo quasi preso però ci siamo quasi dai ok ok ed eccoci sull'ultimo rettilineo ok secondi buono così potete andare leggermente meglio ma va bene dai considerando anche la macchina campiamo monomarche che faccio sempre poi difficoltà ma comunque bene così ok 12.000 soldoni punti 1.390 distanza per corsa 14 km e 9 punti esperienza ben qui siamo arrivati al livello 24 bene e andiamo subito proseguiamo con la seconda gara nel circuito denominato Blue Moon Bay e vediamo un po' vediamo un po' peggio mamma venite qua che rombo di motore mamma mia incredibile Dagli così, dagli così Ok, iniziamo la gara Ok, bene così Siamo sempre ultimi, porca la miseriaccia, boia Frena Vai così Ok, uno l'abbiamo già superato, bene così Vai così Ok, bene così Prendiamo gli ascii a questo qua davanti Bene così Da che siamo ottavi alla fine del primo giro Ok, bene 1.08 632 Frena Frena, te prego, frena Allora è partita per la tangente Bene Porca, sei schiantata Vai così, vai così Porca miseria, altro schianto Vai che siamo quinti Giro migliore Bene così Si schiantano un po' tutti Porca miseria, che schianto Vai così, vai così Da che siamo quarti Dai, dobbiamo riprendere qui lì davanti Eccoli qua Eccoli qua, quelli davanti Bene così 1.08 5.71 Bene Siamo migliori di 5 secondi Porca la miseria E' andata per Cicorie Vabbè però L'improvviso che non ci hanno superato Siamo ancora quarti Va bene Ok Siamo al terzo giro Dai, cerchiamo di prenderli a quelli Dai Vai Vai che li sono schiantati Vai che li sono schiantati Bene così Porca miseria Dai che hanno fatto il botto Dai che hanno fatto il botto Vai Ribecchiamoli Vai che abbiamo ribeccati Dai che siamo secondi Bene così Inizio del quarto giro 1.07 Perché ci siamo Fatto il botto In questa curva Maledetta Vai che lo riprendiamo Al primo Eccolo qua Dai che li stiamo sul culo Vai superiamolo Vai superiamolo Frena Frena Dai che caspita Però Ci ha risuperato il primo Porca miseria Dai dai Quinto Quinto e ultimo giro Che figata anche l'aereo Ah cazzarola Siamo tornati terzi Porca la miseria Non ci provare Non ci provare No Non ci provate E ok Dovremmo chiudere In terza posizione E ok Così è Bene così Coppa di bronzo Per noi Poi magari queste gare Perché ci tengo a capire tutte quante d'oro Me ne rifarò per conto mio Ok Bene così 10.800 denari 400 punti miglia 14 km 360 punti esperienza Andate a metà Di livello 24 Bene così E andiamo di corsa Verso la terza E ultima Gara E vediamo un po' Vediamo un po' Terza gara Di questo circuito Si chiama Tsukuba Scusate Un attimo è uscito Tsukuba circuit Ovviamente Il circuito giapponese Di nuova Fattura Cioè Omero Insomma Grazie all'ultimo aggiornamento Di questo Gran Turismo Sport È stato implementato Dentro Questo videogame Della Polifoni Digital Non mettere qua Rombo di tuono Rombo del motore Dai Dai così Dai Iniziamo la gara Siamo sempre a dodicesimi Porca maledizione Cinque giri Questo nuovo tracciato Che per me È nuovissimo Proprio Inchioda Vai così Vai così Vai così Frena Porca Mi serve Una bella tecnica Questo circuito Dai Vedete qui A zio Giappo Gamer Fate le brave Porca la miseria Come si fa Piccicoria Porca la miseria Porca la miseria Come parte Sta macchina Comunque Non è tanto lungo Questo circuito Porca la miseria Faccia boia Eh però Però eh Non riesco manco A superare queste due Cazzarola Ecco ok Forse così Vediamo un po' Ok miro intertempo Bene questo Mi solleva un po' Porca la miseria Che circuito Comunque anche quelli davanti Sbagliano Ok vediamo un po' Giro migliore Bene così O pelato O bussato Scusa eh Siamo al terzo giro Porca la miseria Che roba Oh pelato Scusa Toribusato Poi facciamo il cheat Eh Ok siamo almeno ottavi Ok Bene così Ok Settimi Bene Eh sì Sì In testa Sì Tutti Eh Che te pareva Eh Porca miseria Che circuito Porca miseria Che circuito Ok Ok bene Eccoci qui Su questo nuovo circuito Giapponese Tsukuba Circuit Che io sinceramente Che io sinceramente non conosco Frena Frena Ok bene Adesso parte il Parte la gara Frena Frena Ma inchioda Passa di qua Va Bene così Vai così Vai così Porca miseria Quanta tecnica Questa Questo Questo circuito Porca la miseria Ok Bene così Porca la miseria Siamo ancora Dodicesimi Ecco L'ha fatto la cazzata Bene così Ok Undicesimi Vediamo un po' Di superare Qualcun altro Ok Bene così Siamo decimi Ma che ti fa Tutto in terzo Questo circuito Cioè che Caspita E' cortissimo Vai così Vai così Doviamo un po' Del suo rettilineo Scusa E' t'ho bussato Scusa E' t'ho bussato Eh sì Ecco bene Vai per conto Tu Testa coda Mamma mia Sei schiantato Porca miseria Siamo ottavi Ovviamente questa gara Va come va Poi magari Mi rifarò Per conto mio Cioè ovviamente Se riesco a vincere Bene Non devo rifarle Ma E poi dovere Insomma Non si è scritto Da nessuna parte E' una cosa mia Insomma Quello di avere Tutte le gare oro Stava così Anche con gli altri Bandiera gialla Cavolo Porca la miseria Sei schiantato Quello Ha fatto un mese Stava così Anche con gli altri Gran Turismo Insomma Di vincere tutte le gare Di venire tutte le gare oro No cazzarola No cavolo M'hanno sorpassato Maledizione Ok siamo Sesti A 12 secondi Dal primo Non credo di vincere Questa gara Ovviamente Ma Almeno un buon Piazzamento Oppela Scusa eh Poi facciamo il cheat Eh Tagliamo un po' Così Vai Venite qui Di azio Giappo Gamer Siamo quinti Passiamo l'internamente Così Così Va che siamo Quarti Primo Ovviamente S'è dato Siamo all'ultimo Giro Vediamo un po' Vediamo un po' Se riusciamo a rimontarli A questi due La vedo un po' dura eh Sinceramente però Oddio ecco pure il primo Oddio Cavolo Avevo quasi Ribeccati Porca la miseria Dai che siamo terzi In qualche modo Dai che siamo terzi In qualche modo Mamma mia che gara ragazzi Mamma mia Eh questa con la Nissan GTR Un po' migliore Forse si vincono eh Queste gare Vabbè Poi magari mi rifarò Per conto mio Bene così Bella coppa Questa Nissan GTR Cup Veramente bella coppa Bene così Possiamo anche Tranquillamente uscire Allora abbiamo beccato Mi pare Un secondo posto E due terzi posti E infatti così è Ok Bene così E Anche questa Manifizzazione Questa coppa Nissan È andata Vediamo poi di tornare Nell'hub principale Ah no Buone tutti Alimento giornalino completato Bene così Buoni tutti Dai dacci un bel macchinone Give me the best car Give me Give me Macchinone Macchinone Buono Bona così Vai di porca Vai di porca Vai di Porsche 911 RSR Del 2017 Bene così Bel macchinone Bene bene Sono particolarmente felice E così qua Tornati nel Nell'hub Principale Questo Gran Turismo Sport Io spero che questo Episodio vi sia piaciuto Se così fosse Vi invito a lasciarmi Un bel like Un commento Con i vostri amici Io vi ringrazio Uno a uno Per essere Di fin qui Seguiti ovviamente Nei miei social network Mi trovate sulla pagina Facebook Su Instagram Su Twitter Sul canale Telegram Trovate tutti Gli indirizzi Nella descrizione Io vi ringrazio Uno a uno Per essere Dati fin qui Dal vostro Giappo Gamer È tutto Sayonara E prossimi episodi Gli indirizzi